bentornati in affinity photo e oggi voglio farvi vedere come trasformare un'immagine raw dunque un file raw in un hdr usando però una sola immagine e questo in affinity photo funziona veramente molto bene perché abbiamo qui la persona mappatura toni che in realtà ci risolve il problema perché mappa toni di alta dinamicità di high dynamic in modo veramente eccellente allora prima però di aprire la nostra immagine è importante che lavoriamo nella gestione assistenti e qui andiamo assistente sviluppo perché vedete qui siamo nell'assistenza normale qui per andare in sviluppo perché trattandosi ovviamente di un immagine raw parliamo di sviluppo formato di output raw in questo caso è importante che sia rgb hdr 32 bit dunque che sia un output di 32 bit e automaticamente dovrebbe essere attivato ma controllate che sia così curva tonale non effettuare nessuna azione perché se applicassimo la curva tonale questa taglierebbe tutti i valori fuori dal suo limite e questo non va bene perché questi valori servono sono valori in più che noi abbiamo e ci servono per poi nella mappatura toni per riprenderci tutta questa gamma tonale e dunque è importante appunto che sia nessuna azione attivata detto questo e fatto questo confermo con ok e a questo punto e prendo una mia immagine vedete questo è un file raw che adesso prendo e trascino e si apre ovviamente automaticamente in sviluppo come vedete l'immagine è molto scura è un'immagine che ho tenuto volutamente sotto esposta per dare più possibile attenzione alla parte luce sapendo appunto di sacrificare naturalmente la parte delle ombre che però adesso riesco a recuperare e dunque ed è proprio quello che farò adesso andrò a recuperare qui le ombre vedete e adesso controllo mi avvicino un po controllo qui nelle zone ombre come siamo messi con i dettagli se abbiamo qui forte rumore ma io direi che il rumore è più che accettabile se così non foste ovviamente potete andare nei dettagli e leggermente migliorare qui il rumore sia di luminanza che di colori dunque lo lascio così torno però qui nella base e ecco controllo i profili vediamo che profilo ho al posto di adobe rgb posso usare qui il rom rgb che corrisponde al profoto che è in affinity foto dunque e dunque ha una gamma di colore decisamente superiori dunque lasciamo questo profilo qui qui abbiamo aumentato leggermente l'esposizione direi che così possa andare bene clicco su sviluppo torno in persona foto in persona foto in realtà non dobbiamo fare nient'altro a meno che voi abbiate un monitor che supporta i 32 bit a questo punto sotto visualizza potete andare sotto studio e mettere anteprima 32 bit e come vedete attivi attiva hdr il mio monitor in questo momento non lo sta sopportando se il vostro supporto lo attivate a questo punto possiamo andare in persona mappatura clicco e andiamo a vedere in mappatura cosa succede adesso tolgo qui il set impostazione che non mi interessa e qui avete già visto come è cambiato guardate così senza compressione di toni con compressione toni zero e man mano che lo sposto vedete come ricupero i toni magari non serve tutto possiamo abbassarlo un po e possiamo aumentare un po il contrasto locale attenzione sul contrasto locale che ha sempre questo effetto è molto molto intenso molto marcato personalmente non lo amo molto dunque io tengo questo valore sempre molto basso posso gestire naturalmente ancora l'esposizione ad esempio abbassandola un po o aumentando ma direi qui sta bene anche abbassarlo un po e aumentare invece un po più la luminosità vedete abbassa un po il punto nero visto che è notte e aumento leggermente la luminosità e qui l'effetto è già decisamente molto bello possiamo eventualmente intervenire ancora con una curva se vogliamo dare un maggiore contrasto ad esempio qui nei mezzi toni alzo leggermente nei mezzi toni questo è quasi già troppo e abbasso un po nelle ombre e guardate l'effetto finale io direi che è davvero molto bello molto intenso come vedete abbiamo dettagli in tutte le zone delle luci guardate che è notevole e abbiamo recuperato naturalmente anche le ombre vedete anche qui i dettagli sono davvero molto belli possiamo tornare qui nella rifinitura dei dettagli e aumentare ancora leggermente i dettagli sull'immagine guardate qui la scritta siamo a merano sulla passeggiate di merano la sera e guardiamo il prima vedete e il dopo è leggermente più è contrastato e dunque direi che siamo riusciti con questa tecnica di sfruttare i 32 bit del raw e elaborarlo poi in mappatura toni in modo veramente eccellente se avete vi ricordate il punto di partenza dell'immagine e il risultato direi che Affinity ha fatto un lavoro davvero grandioso adesso clicco qui su applica torniamo in foto e a questo punto non ci rimane che salvare la nostra immagine per l'esportazione possiamo esportarla come tif oppure come un altro formato questo poi dipende naturalmente dalla necessità di ognuno però se andiamo a vedere nella cronologia guardate il punto di partenza e guardate il risultato Affinity ha lavorato molto bene se il video ti è piaciuto ricordati di cliccare sul like e se vuoi vedere altri video di foto editing di post produzione iscriviti al nostro canale dove troverai tantissimi altri video che ti aiutano a ottimizzare e a migliorare le tue immagini grazie a tutti